L'uomo nel corso dei secoli è sempre stato alla ricerca di qualcosa, la ricerca può essere sfuggente come la neve a primavera. Cosa stiamo cercando? Da dove cominciamo? Seguiamo le orme dei grandi maestri o imbocchiamo un percorso tutto nostro? Siamo disposti a rischiare di perderci pur di riuscire a ritrovarci. L'unica certezza in questo viaggio è che vedremo nascere delle ispirazioni e allora ci riposeremo cullandoci, riposeremo in silenzio. La vera bellezza della ricerca è la scoperta, le domande diventano risposte, l'immaginazione si tramuta in realtà e le cose più semplici si trasformano in magia. Passano le epoche ma il piacere più grande resta sempre quello della conoscenza. Tutte le verità sono facili da comprendere dopo essere state scoperte, l'importante è scoprirle. Queste sono le parole di Galileo Galilei. L'uomo ha fatto grandi sacrifici per rivelarsi, per racchiudere i suoi pensieri più vasti in una cosa semplice come un libro. La ricerca è infinita, è una fede che trascende dell'espirazione. L'uomo ha fatto delle cose più semplici per rivelare il nostro uguale. L'uomo ha fatto delle cose che sono le cose più semplici. L'uomo ha fatto dei